manualmente è stata una faticaccia ma alla fine immagino è andato tutto bene facciamo un bilancio di questi campionati italiani celtri ma sicuramente molta soddisfazione da parte di tutti trasversalmente in quanto il bilancio al di sopra delle aspettative è andato tutto molto bene il tempo ci ha aiutato l'organizzazione ha funzionato perfettamente quindi c'è un bellissimo risultato per il frulli Venezia Giulia nonostante insomma la situazione pandemica in cui viviamo siamo insomma a portare a casa un ottimo risultato a fare delle bellissime gare quindi un risultato sicuramente positivo per il nostro territorio ecco quali sono state le difficoltà principali proprio per quanto riguarda il covid immagino con mascherine eccetera e distanziamento beh certo abbiamo dovuto insomma mettere in pratica tutte le norme che quotidianamente insomma ci dicono come comportarci quindi abbiamo messo dei controlli l'accesso gara c'era il personale ha detto insomma affinché i ragazzi mettessero indossassero la mascherina c'erano dei protocolli di distanziamento ben finiti quindi un procedimento molto più complicato rispetto alla tradizionalità delle gare però siamo usciti grazie a tutti i volontari che si sono insomma prodigati nel mettere a punto queste norme che hanno fatto girare la macchina in maniera ineccepibile quindi bravi loro perché sono fondamentali tutto il volontariato nel portare a termine queste manifestazioni importanti e grazie mi pare anche alla collaborazione importante di premonturismo assolutamente fondamentale infatti ringrazio premonturismo poi abbiamo avuto rapporto delle truppe alpine della della guardia di finanza del corpo forestale e tutte le tutte le associazioni che comunque abbiamo abbiamo contattato si sono insomma subito messe a disposizione per collaborare non da ultimo è stato anche responsabile della coppa di mondiali di cortina è stato due giorni con noi quindi ha espresso parole di apprezzamento nell'organizzazione quindi un bellissimo risultato per la carnia per il fru di venezia giulia e anche i vari comitati regionali solo parole di trasversalmente abbiamo ricevuto complimenti ne cito alcuni dall'alto alice al trentino al comitato campano non da ultimo la federazione ci ha scritto non più tali di ieri la lettera di complimenti per l'organizzazione quindi è stato veramente un successo che non ci aspettavamo insomma il tempo ha aiutato molto le nevi erano veramente invernali hanno fatto bellissime gare gli atleti contenti anche soprattutto abbiamo portato tanta gente nel nostro territorio abbiamo dato un po di ossigeno anche alle strutture ricettive che hanno ospitato per sei giorni quasi 800 persone quindi direi molto un bilancio molto molto positivo sì non solo sport ma anche turismo che poi l'obiettivo del mondo dello sci e tu lo puoi sapere anche come consigliere della federazione regionale no sì assolutamente sì anche perché abbiamo fatto vedere col tempo che avevamo abbiamo fatto vedere veramente la nostra zona come una cartolina quindi è stato per noi anche a livello turistico un avvenimento che comunque ha portato soddisfazione per chi è organizzato e soprattutto per chi ha avuto modo di partecipare ha visto veramente i bellissimi posti in cui viviamo club monte d'auda di zulio quindi uno immagino dei più piccoli comuni organizzare una delle gare così importante poi a bocce fredde abbiamo abbiamo ci siamo ritrovati che poi ci ritroveremo insomma quando la situazione pandemica ce lo permetterà un po anche forse incoscienti non lo sappiamo comunque insomma abbiamo portato a casa un bellissimo risultato ma non perché l'ha organizzato il nostro club perché qua il lavoro di squadra di tante associazioni che hanno contribuito alla riuscita di questa bellissima bellissima manifestazione quindi super super felici tutti ma ci fermiamo qui o puntiamo a qualcosa di ancora più importante diciamo che il passo successivo sarebbe gli assoluti gli speranti assoluti però ne parliamo ne abbiamo parlato la scorsa settimana col presidente di uno offer vedremo un po come organizzare se fare una tappa sullo zoncolan tarvisio e san nevea comunque qualcosa già si sta muovendo per insomma per la prossima stagione